ciao a tutti anime bentornati qui su quinta dimensione letture e in particolare su questo appuntamento con questo appuntamento con i sette raggi e cinque raggi occulti vi ricordo che ho creato proprio la playlist di questa serie di video per la crescita personale e spirituale andatela a cercare su questo canale è proprio la playlist chiamata dei sette raggi e cinque raggi occulti allo stesso modo ma ve lo spiegherò anche più avanti per ogni raggio è associata un'altra playlist di note tonali che sono proprio quelle note quelle vibrazioni che sono più in risonanza proprio quel giorno quindi sarebbe consigliabile ascoltarle quel giorno allora i sette raggi sono uno strumento bellissimo fantastico che ogni diciamo chela come ci chiamano i maestri ascesi che sarebbe chela sarebbe discepolo lo studente se vogliamo del proprio di quello che è la spiritualità e la strada verso l'ascensione maestri ascesi si raccomandano molto di questi raggi so che ci sono tantissime forme ovviamente anche giuste e buone per la crescita personale meditazioni tutte queste cose ma sappiate che è proprio richiesto il lavoro con i raggi perché è proprio una particolare cosa cioè è una cosa in più per loro è una cosa che dicono chi ormai ha capito e chi ormai ha scoperto è venuto a conoscenza tramite tanti modi che abbiamo anche adesso dell'esistenza di questi raggi dovrebbe assolutamente metterla in pratica perché insomma è una cosa molto molto importante che fa sviluppare proprio la spiritualità ci porta più vicino alla strada per la nostra realizzazione per insomma proprio ascendere e quindi è considerato un lavoro molto molto importante anche più di altri lavori e deve diventare una pratica costante i sette raggi sono appunto le sette sfere di dio le sette virtù sono proprio i sette colori sapete il numero 7 no che è un numero comunque ricorrente in tutta la storia dell'umanità che ci sono tanti motivi tante cose i sette pianeti sette chakra insomma non sto qui adesso a parlare di questo ma è proprio diciamo un percorso che se fatto vedrete proprio la differenza i sette raggi poi sono stati scoperti che è una cosa antichissima i sette raggi in realtà è poi ci sono state delle aggiunte con i cinque raggi occulti che faremo alla fine di questa serie dei primi sette raggi allora come sempre vi dico che i contenuti di queste di questi video sono presi dalla editrice italica e in particolare che vi invito comunque ad acquistare se volete questi questi libri che sono il primo thomas prince le meditazioni quotidiane sempre di metafisica italia questo è piccoletto tascabile da borsa per chi ogni giorno si vuol portare troverà il giorno domenica lunedì martedì mercoledì con annesso quello che deve fare quel giorno a livello di preghiera e di decreti e poi il volume più nuovo dove ci sono anche cinque raggi occulti sempre di metafisica italia di raol miceli sette raggi e cinque raggi occulti va bene qui spiega anche tutto bene il discorso di lavorare proprio con i raggi questo è semplicemente proprio i decreti quello che devi recitare con elencati gli esseri di quel giorno gli esseri di luce qua c'è proprio un lavoro più più importante più lungo proprio come sviluppare le virtù di ogni raggio eccetera eccetera in alternativa per chi piace questo argomento vi faccio vedere altri volumi che faccio vedere sempre in ogni video di ogni raggio allora intanto abbiamo chi conosce telos abbiamo telos 4 le sette fiamme sacre di Aurelia Lewis Jones della Melchisedec edizioni anche qui ci sono delle meditazioni molto interessanti però insomma sì questo parla dei raggi ma ci sono anche gli altri volumi per avere un po' un senso questo è il numero 4 ci sarebbe telos 1 telos 2 telos 3 quindi sarebbe anche da vedere poi da cominciare un pochino in fila diciamo questi lavori di non catapultarsi solo su uno e invece per quanto riguarda la metafisica di Connie Mendes dove spiega molto bene chi l'ha letto so che è rimasto molto contenta a me sono piaciuti tantissimo sono i due volumi questo è il volume primo e secondo sono due volumi in uno ed è la prima il primo volume che però comprende due volumi e poi c'è il 2 questo qua che comprende gli altri due volumi sono proprio molto interessanti per la tua crescita personale e spirituale sapete che io vi faccio anche vedere dei contenuti dei insomma non solo vi parlo vi faccio anche vedere in pratica quello che potete fare sapete che il mio canale è pieno comunque di contenuti di questo tipo che potete fare allora vi ricordo che c'è anche l'articolo sul mio sito web andate a vedere perché ovviamente sulla descrizione del video di youtube non c'entra tutto allora ne ho messo intanto una piccola parte poi prosegue sul mio sito quindi vi metto comunque tutto in sovraimpressione quello che posso ma quello che non posso ve lo metto sotto la descrizione in modo che potete andare a vedere chi vuole vedere proprio il video di questo raggio vada sotto la descrizione perché c'è il link diretto con tutti i decreti scritti per voi quindi potete anche vederlo poi le note tonali anche sono in descrizione ripeto le note tonali sono quelle vibrazioni più in risonanza con oggi con quel giorno con quel raggio con quel colore poi abbiamo le pietre abbiamo gli aromi abbiamo tante cose per quel giorno per esempio tanti mi dicono come si usano cosa si deve fare allora è molto semplice in realtà ci sono delle pietre più adatte in questo giorno ma sappiate cosa però una cosa molto importante non è che se non abbiamo quella pietra non va bene quel giorno perché se la pietra è verde per esempio con questo raggio va bene è una risonanza di colore è una cromoterapia non è che non va bene ok per esempio qua al dito ho una moldavite per esempio no è anche qui anche questa è una moldavite la moldavite è verde è verde scuro non è indicata nel diciamo nelle istruzioni che ci hanno dato per quanto riguarda questo raggio verde ma non importa perché comunque è una vibrazione anche questo questo è un cristallo andara per esempio no non so se si vede bene è verde scuro e come fa a non essere in risonanza se il colore è quello va bene quindi va bene lo stesso poi per esempio abbiamo anche la l'arimar questa pietra di atlantide questa se andiamo a guardare mica è verde cioè forse potrebbe essere una piccola sfumatura sul verde però è indicata invece questa proprio per oggi per il giorno del raggio verde ma è un larimar non è no una non so una pietra comunque verde tipo il periodo l'olivina per esempio che sono di questo giorno dove ho braccialetti eccetera quelle cose quelli allora quelli che avete metteteli se corrispondono a quel giorno metteteli se avete un altro braccialetto in questo caso di questo giorno verde che è un'altra pietra che ne so l'avventurina verde che qui non c'è scritto che c'è mettete anche l'avventurina verde perché comunque è sempre una pietra verde va bene molto importanti le note tonali mi raccomando perché vi connettono la playlist la trovate sempre su questo canale e qui sotto in descrizione le note tonali vi connettono con gli esseri con i maestri chohan gli elohim proprio che hanno ognuno la loro nota tonale ve le ho messe tutte insieme in un'unica playlist molto comoda molto facile potete anche far partire la playlist in sottofondo e poi recitarci sopra i decreti e lo stesso vi ricordo il sito web dove potete trovare tutti i raggi che ho fatto va bene allora vediamo per oggi il raggio verde è un pochino più lungo perciò partiamo perché ci sono un po' più esseri e anche i decreti sono un po' più lunghi io vi dico adesso prendiamo da questo libro allora un'ultima cosa allora sul raggio verde ci sono siccome il verde per chi già sa insomma un po' di cose sa che è associato all'arcangelo raffaele anche il numero insomma il scusate il raggio il colore della guarigione ci sono degli decreti che parlano proprio di guarigione e molto spesso si riferiscono a cose più astratte più fuori di noi li potete anche modificare ve lo dico adesso perché poi quando reciterò vorrei farli in fila senza interruzioni senza mettermi a spiegare così chi mi segue che li fa insieme a me non si deve stoppare non deve fare delle pause per me no? perché sto parlando quindi ve le dico prima le cose e poi quando recitiamo andiamo tutti spediti insomma ecco allora ci sono dei decreti che parlano avvolgi questa clinica avvolgi questo ospedale avvolgi questa persona ecco io lo leggo così come sta scritto poi sappiate però che se vi riguarda in modo personale lo potete modificare lo potete cambiare non so avvolgi mio marito x ok? avvolgi la persona x oppure avvolgi l'ospedale san no? ecco cioè quando vedete che lo potete personalizzare perché io vi leggerò tipo persona virgola cosa no? quando dico persona o cosa sapete che lì lo potete modificare va bene? perché va anche personalizzato no ma deve essere personalizzato ok? non è un problema quello fatele anche vostre le cose non abbiate queste paure lo dico spesso nei video non abbiate queste paure se lo fate per voi parlate di voi mettetevi mettetevi voi mettetevi anche dite pure il vostro nome se volete ok? quindi per questo lo dico proprio perché va bene per tutti i raggi ma specialmente per quanto riguarda la guarigione anche fisica no? allora partiamo con il quinto raggio verde la quinta sfera verde dove le virtù caratteristiche sono proprio la verità la salute ce ne sono tante la scienza la guarigione la concentrazione la visione la musica consacrazione allegria e senso dell'umorismo grande precisione nelle affermazioni giustizia senza misericordia perseveranza esattezza razziocinio discernimento acuto buonsenso rettitudine indipendenza intelletto intelletto perspicace conoscenza concreta il chakra corrispondente del quinto raggio verde è il chakra del terzo occhio quindi il chakra numero 6 quello in mezzo alle sopracciglie il giorno della settimana in cui è più attivo è il giovedì il chohan che sarebbe il direttore di questo raggio è il maestro asceso hilarion gli elohim sono vista e cristal gli arcangeli raffaele e regina maria gli aromi il bergamotto menta piperita e rosa le pietre smeraldo quarzo verde giada verde larimar diaspro verde olivina chiamata anche peridoto la nota musicale è il mi vi illustro questi esseri velocemente perché sono più importanti i decreti il maestro hilarion appunto che è il direttore del quinto raggio ed è anche il gerarca del tempio della verità della scienza e della guarigione situato nel regno eterico sull'isola di creta in grecia il maestro hilarion lavora con i suoi discepoli per illuminare attraverso la fiamma della verità gli uomini ingenui quindi aiuta molto sotto questo senso fu anche un sacerdote del tempio della verità ad atlantide sull'isola di poseidone e insieme a un gruppo di sacerdoti del fuoco sacro trasportò la fiamma della scienza e della verità e alcuni documenti del tempio in grecia quindi trasportò anche queste cose in grecia fu anche insomma ha avuto anche diverse incarnazioni questo maestro hilarion ci sono tante informazioni vi consiglio di acquistare il libro comunque perché non posso ovviamente anche per per copyright per diritti vari insomma degli autori non è che posso illustrarvi tutto il libro chi piace approfondire lo acquisti raggiunse comunque l'ascensione quando lasciò questo piano astrale durante quell'incarnazione allora vediamo ancora gli Elohim Vista e Crystal le loro attività principali sono la concentrazione la consacrazione la guarigione e la musica molto bello questa cosa Vista e Crystal hanno anche una particolare influenza sul Canada ma il loro tempo è situato a Desmeralda un luogo sconosciuto che alcuni studenti situano nei monti Altai le montagne dorate tra la Russia Mongolia Kazanistan e Cina l'Elohim Vista è conosciuta anche come Ciclopea l'occhio di Dio che tutto vede poi l'Arcangelo Raffaele eccolo qua l'Arcangelo del quinto raggio verde il raggio della verità salute guarigione scienza precipitazione che significa manifestazione natura vita abbondante musica concentrazione e consacrazione poi ovviamente anche lui ha la sua nota tonale Raffaele è conosciuto anche come il medico del cielo e può essere invocato in qualsiasi situazione richiede alla guarigione della guarigione affinché avvolga con il suo mantello di luce verde di guarigione la persona o la situazione che ne ha bisogno e qui faremo poi il decreto proprio del mantello di guarigione dell'Arcangelo Raffaele così come un esercizio che faremo proprio sempre con il raggio verde che chiederemo proprio nelle nostre mani di avere questo raggio verde poi vi dico dopo durante i decreti lo sentirete Madre Maria l'Arcangelina Regina è un immenso essere cosmico ed è il completamento divino dell'Arcangelo Raffaele Arcangelina del raggio verde conosciuta come Arcangelina Regina il suo modello elettronico è la rosa bianca e i suoi tempi si trovano in terra santa a Lourdes e a Innsbruck allora Madre Maria è una madre divina cosmica una grande una delle grandi dame del cielo sostenitrice dell'umanità poi abbiamo la nostra cara a me molto cara per esempio Dea Pallada Atena Dea della Verità la famosa Atena Dea della Verità allora Atena aiuta i ricercatori della verità e in accordo la loro sincerità svela loro aspetti via via più profondi della verità quindi la imbocchiamo proprio perché si manifesti la verità quindi molto bello quando c'è bisogno proprio di manifestare un qualcosa che non se ne può più che quindi si chiede proprio di manifestare di rompere quella cosa che c'è sopra che non fa vedere quale è sotto sotto la verità molto importante molto forte Atena Lady Meta che è una guardiana di Venere figlia di Sanat Kumara e Lady Venus e venne sulla terra con Sanat Kumara e la fratellanza di Venere Asclepio e Igea che sono due immensi maestri del raggio verde della guarigione Asclepio è conosciuto come dio della medicina figlio del dio Apollo e della bella giovane Coronide poi c'è Igea detta anche Hygieia è anch'essa conosciuta come dio della salute o della guarigione e della medicina poi abbiamo Panacea che è una grande maestra scesa della guarigione secondo la mitologia greca è figlia di Asclepio e Pione ed è la dea o la personificazione della guarigione universale poi anche per lei avremo il decreto molto molto importante Kahara non so se si dica Chahara più verso il cinese comunque Kahara il figlio della maestra scesa Meta che è sempre la figlia appunto di Sanat Kumara e nell'ultima incarnazione visse nell'antica Persia come figlio anche della maestra Meta produsse anche l'elisir della lunga vita a proposito ho dimenticato di dirvi dove vedete le foto perché si hanno notizie dove non ci sono vabbè non ci sono notizie diciamo per lo meno a livello di com'era a livello fisico Lord Ling il dio della felicità è un maestro asceso la cui particolare virtù è come esprime il suo nome la felicità molto bella questa cosa anche Lady Aurora Lady Dawn o Dawn maestra ascesa e complemento divino di Lord Ling Lady Aurora lavora nel raggio della felicità e nella gioia Fun Way che è l'assistente di Lord Ling che abbiamo detto prima il dio della felicità le qualità speciali sono espansione della gioia e della felicità Lady Consonance essere cosmico direttrice della sinfonia planetaria il complemento divino è Lord Armonia Dea della musica madre divina che irradia le qualità della musica delle sfere il suo campo di forza è il sole centrale di questo sistema Helios e Vesta poi abbiamo l'essere cosmico Parses che è un essere cosmico che aiuta a comprendere la terminologia astrusa degli insegnamenti ed è dunque molto attivo in questa nuova era Lord Tabor che proprio fu un deva protettore del monte Tabor in terra santa dove il maestro Gesù ricevette la terza iniziazione e lo aiutò in questa iniziazione e Gesù a sua volta aiutò Tabor a raggiungere un'iniziazione maggiore che gli permise dopo l'ascensione di Gesù di essere il deva protettore delle montagne rocciose in Nord America poi abbiamo Maria Montessori messaggera dell'educazione che è una discepola di Madre Maria questa ce la ricorderemo in tanti sicuramente manifestò i fondamenti dell'educazione dei maestri ascesi per l'era dell'acquario era una messaggera della gerarchia spirituale nel campo dell'educazione e fu istruita da Madre Maria da Gesù e da Kutumi maestro José Gregorio Hernández ascoltatemi bene perché potete fare un lavoro con questo maestro molto importante per chi deve guarire a livello fisico ovviamente tutto questo è una fonte in più spirituale ricordo a tutti stiamo parlando di raggio verde della guarigione c'è sempre prima comunque il medico mi raccomando ma queste sono cose in più molto potenti che potete fare il dottor José Gregorio Hernández è un maestro asceso del quinto raggio verde della guarigione e nacque in Venezuela venne chiamato il medico dei poveri perché guariva curava gratuitamente i più bisognosi e comprava per loro i farmaci quando era necessario allora il maestro Ilarion che è il chohan di questo raggio afferma che il dottore Hernández è stato allenato per secoli nel suo tempio è diventato un maestro asceso del quinto raggio verde sentite questa il dottore Hernández tuttora si manifesta spesso ai suoi devoti in Venezuela e in altri paesi con guarigioni definite miracolose della scienza allora ci sono delle testimonianze che dicono che scusate il dottore Hernández dove lavorò quando era in vita no ha fatto delle guarigioni miracolose e sta continuando cioè nell'ospedale dove lavorava ci sono ancora e c'è ancora l'ospedale ci sono state delle guarigioni miracolose nonostante questo dottore sia ormai passato dall'altra parte del velo e c'è proprio il direttore tuttora tuttora che sto parlando in questo momento di quell'ospedale che proprio dice che il dottore Hernández guarisce alcune persone ancora persone lì ricoverate c'è una camera all'interno della struttura dove ricoverano i malati terminali senza speranza di guarigione e dice questo direttore di ospedale che ogni tanto qualcuno di essi si alza dal letto in completa salute dicendo che è venuto un medico con i baffi che lo ha guarito rendiamoci conto allora questo ve lo dico adesso perché dopo c'è solo insomma vi dico che esercizio potete fare perché non ci sono i decreti per il maestro José potete fare la sera per esempio mettete l'immaginetta del dottore vicino al comodino chiedete proprio la guarigione questo dovete fare perché molti sono stati ascoltati potete mettere anche sempre nel comodino un bicchiere d'acqua vicino alla sua foto e voi andate a dormire e la mattina no aspettate quando mettete l'acqua vicino alla sua foto andate a dormire chiedete ovviamente la guarigione ringraziate sempre e la mattina bevetevi quest'acqua che se insomma se sarà se Dio vuole se vogliamo dire sarà caricata proprio dal maestro asceso di guarigione sarà caricata proprio con questo potere proprio di guarire io lo farei per qualche giorno è un medico che si dice abbia un grandissimo cuore e aiuta anche già da maestro asceso come aiutava in vita continua a farlo adesso quindi questo è un esercizio molto buono prendete l'immaginetta di José Gregorio Hernández ve la stampate anche piccolina così la mettete anche sul comodino e se volete anche con un bicchiere d'acqua per un po' di giorni poi abbiamo l'ultimo Giuseppe Moscati che è un essere del quinto raggio verde ha una notevole somiglianza col dottor José Gregorio Hernández sentite questa sia nell'aspetto fisico che nella sua opera d'aiuto l'umanità e guarigione anch'esso era un medico che è italiano tra l'altro era italiano filosofo nato a Benevento nel 1880 disincarnato a Napoli nel 1972 medico anche lui dicono del cielo e può essere invocato per portare guarigione quindi tanto sapete che stiamo parlando tutti di questa cosa tutto diciamo il raggio verte molto su questa cosa sulla guarigione allora note tonali mi raccomando e possiamo partire a leggere aspettate che prendo anch'io a leggere i nostri decreti partiamo sempre un bel respiro quindi decreti del raggio verde giovedì amatissima presenza di Dio io sono in me oggi consacro la mia vita al servizio di Dio il bene affinché soltanto la perfezione prenda forma nel mio cervello che i miei sentimenti si mantengano calmi amorosi buoni gioiosi e sempre disponibile per ogni forma di aiuto che i miei occhi vedano solo perfezione che le mie orecchie ascoltino solo perfezione che le mie labbra parlino solo di perfezione che le mie mani non facciano che sanare e benedire che i miei piedi mi portino ovunque io possa offrire un messaggio di bene che il mio corpo sia forte e disposto ad essere uno strumento che porta in ogni luogo con la perfezione la perfezione di Dio amato Ilarion ti amo ti benedico e ti ringrazio per l'aiuto che dai a me e a tutta l'umanità inondami con il tuo amore e donami la comprensione di quanto siano giusti la legge cosmica e il sentimento che porta a consacrare la propria vita al servizio di Dio e dell'uomo donami il tuo entusiasmo affinché io riesca a presentare la verità agli uomini in modo che sia compresa e accettata grazie amato Raffaele ti amo ti benedico e ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me e per tutta l'umanità avvolgimi nella tua fiamma di perfezione e consacrazione aiutami a restare cosciente solamente nella perfezione io penso perfezione sento perfezione vedo perfezione ascolto perfezione e parlo perfezione io sono e manifesto solo perfezione oggi amato Elohim Vista ti amo ti benedico e ti ringrazio per il tuo grande servizio al nostro pianeta caricami con il tuo potere di concentrazione per riuscire a diventare maestro qui ed ora grazie io sono l'occhio di Dio che tutto vede e tutto trova grazie padre e madre amato arcangelo raffaele avvolgimi nel tuo mantello verde e manifesta la guarigione perfetta nei miei quattro corpi inferiori amato arcangelo raffaele avvolgi con il tuo mantello verde i medici che devono eseguire questo intervento e guida le loro mani così da manifestare nel mio essere amato la guarigione perfetta amato arcangelo raffaele carica le mie mani con potere della guarigione e guarisce ogni persona animale pianta situazione o cosa che io tocchi grazie padre e madre amati arcangeli del raggio verde venite e avvolgete questo ospedale clinica casa di cura o persona e manifestate la guarigione perfetta ora grazie padre e madre nel nome della divina presenza io sono decreto che mio figlio ha un concetto immacolato di perfezione e decreto che quella perfezione che lui è si manifesti adesso nella sua personalità e nella sua vita grazie padre e madre nel nome della divina presenza io sono e nel nome dell'amata madre maria invochiamo la fiamma violetta della trasmutazione affinché avvolga tutte le anime che stanno per incarnare e che sono state concepite in questi giorni e affinché trasmute ogni residuo carmico di vite precedenti così che queste anime nascano in corpi sani ed equilibrati per poter essere un veicolo pulito per il Cristo interiore e che manifestino il loro piano divino in tenera età grazie padre e madre nel nome della divina presenza io sono e dell'amata pallade atena decreto che la verità si manifesti ora in questa situazione persona affare o cosa grazie padre e madre amata dea della verità manifestati ora in questa situazione grazie padre e madre decreto la verità in questa situazione e voglio vederla manifestata adesso amata e benedetta presenza di Dio io sono in noi e amata e potente signora astrea chiudete il vostro cerchio cosmico e la spada di fiamma azzurra dei mille soli proveniente dal grande sole centrale in attraverso e intorno a tutte le apparenze di piaghe germi epidemie e malattie avvolgete e trasmutate avvolgete e trasmutate avvolgete e trasmutate ogni causa effetto registro e memoria prima che possa agire avvicinarsi o minacciare la vita rimpiazzate tutto ciò con la triplice fiamma cosmica con il pieno potere del tre volte tre che il pieno potere della fiamma dell'amore del fuoco sacro si moltiplichi per mille con il magno potere cosmico moltiplicato ad ogni istante dirigendo tutto con supremazia divina e obbedienza fino a che tutti siamo ascesi e liberi amato io sono amato io sono amato io sono grazie padre madre amata panacea nel nome dell'io sono manifesta adesso la guarigione universale di tutte le cellule del mio corpo fisico eterico emozionale e mentale amata panacea carica ora le mie mani con il potere di guarire ogni apparenza di malattia panacea 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 guarigione 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 salute 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 io sono io sono io sono amen grazie padre madre io sono accettando la vibrazione del giubilo dentro ogni cellula dei miei veicoli inferiori dal cuore di lord ling dio della felicità io sono il magnete che attrae dal cristo interno all'atmosfera della terra l'attività dell'allegria della vibrante gioia e della felicità che sempre sono nell'ottava dei maestri ascesi io sono felice grata e il radio amore amicizia a tutta la vita io sono io sono io sono la ressurrezione e la vita della consacrazione e concentrazione in azione dell'amato maestro asceso Ilarion dentro il mio essere e nel mio mondo oggi io sono io sono io sono la ressurrezione e la vita della consacrazione e concentrazione in azione dell'amato maestro asceso Ilarion dentro il mio essere e nel mio mondo oggi io sono io sono io sono la ressurrezione e la vita della consacrazione e concentrazione in azione dell'amato maestro asceso Hilarion dentro il mio essere e nel mio mondo oggi. Molto bene allora questi erano i decreti potete farli insieme a me o da soli seguendo insomma quello che ho scritto nell'articolo dedicato nel sito web le note tonali mi raccomando anche l'abbigliamento anche solo un dettaglio di quel colore quel giorno è meglio tipo oggi sarebbe meglio verde qualcosa di verde non tutti di verde se volete fare tutto verde fate tutto verde ma basterebbe anche la maglietta scarpette un fular indossate le pietre che avete di quel colore se avete quelle indicate di questo giorno sì per esempio l'olivina il periodo chiamato anche periodo o comunque qualsiasi pietra ok se avete una collanina tipo di larimar ok usate comunque le pietre di colore verde che altro dirvi le note tonali il sito web la playlist di tutti i raggi e quando saranno finiti tutti e sette faremo anche i cinque raggi occulti e vi raccomando veramente questa è proprio una un percorso non è un video questo è un percorso proprio per chi come tanti mi chiedono anche in privato che mi scrivete quale percorso personale posso fare insomma tutte le domande che mi fate ovviamente non posso rispondere a tutti ma insomma c'è comunque una risposta da parte mia ma tutti non è possibile però quando chiedete diciamo dei percorsi delle cose fate molto riferimento a quello che già metto qua è perché poi in privato non è che cambia anche se parlate con me perché comunque quelle sono le cose più o meno non è che ce ne sono 10 milioni cioè per ognuno sì è vero c'è anche il discorso personalizzato e per carità però diciamo che qui non si sbaglia se prendi anche se non hai parlato con nessuno tipo con me o con qualcun altro insomma prendi i sette raggi di dio cioè non è che fai male a fare i sette raggi di dio questo è comunque già un percorso che puoi fare ok come la fiamma viola vedete tutta la playlist che c'è su questo canale per esempio su san germain sulla fiamma viola sugli altri decreti anche i codici sacri bene per questo raggio è tutto con il raggio verde vi aspetto nel prossimo video del prossimo raggio e mi raccomando ogni giorno fate il raggio annesso andate a vedere la playlist nella descrizione del video ci sono anche gli altri link sempre riguardanti questo raggio io vi aspetto presto e vi ringrazio tutti vi aspetto presto appunto qui su quinta dimensione letture sul mio canale con altri video per voi grazie mille ciao a tutti